oh mio dio raga sto in season x oh mio dio raga cosa devo fare ora ragazzi gradirei un po' di tifo per me raga questo preciso istante mi ha fatto capire che era il momento di quittare il video no 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 tua madre è una tro... tua madre è una tro... tua madre è una tro... no 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 raga no no mi viene un infarto